ciao a tutti allora video per mostrarvi due o tre cosette che ho realizzato visto che da un po' che comunque non pubblico ma non per cattiveria ma ho poco tempo ultimamente per cui ho un sacco di materiale lì accantonato e niente, rimane lì adesso partirò settimana prossima, quindi il giorno 11 per due settimane e ho deciso che insieme alla valigia farò una mini valigetta con tutte perle, perline, miuki ed erika insomma, metto tutto dentro e approfitto per creare qualcosa magari nei ritagli di tempo tra una nuotata e un'altra o piuttosto tra la pausa spiaggia che faccio sempre dopo mangiato a pranzo e niente, vediamo cosa combino poi vi dirò se sono riuscita nell'intento le valigie hanno solo fatto un viaggio e sono rimaste lì allora, vado veloce perché ultimamente ho problemi con la connessione e con il caricamento dei video infatti ne ho altri da caricare e speriamo di riuscire a farle allora vi mostro due anelli un bracciale e una collana allora parto con con la collana allora la collana è un ciondolo che ho inventato io spero che non esista qualcun altro l'ha già fatto non me ne voglia se se dico appunto che l'ho l'ho inventato io nel senso che io l'ho pensato così e vabbè l'ho realizzato l'ho realizzato con questi colori sull'azzurro anche se vabbè io non è che proprio amo particolarmente i colori sull'azzurro lo metto e lo metto volentieri però diciamo che non mi ispirano delica o rivoli azzurri per realizzare cioè li utilizzo per far già qualcosa che ho visto e mi piacerebbe magari farlo in questo colore e niente quindi questo qua è il ciondolo è un ciondolo realizzato appunto con un rivoli da 14 l'ho incastonato con delle delica che voi non riuscite bene a vedere ma sono azzurre e verdi ho fatto dietro queste specie di ondine ondine di petalini dove li ho incastonato prima gli svaroschi questi qua blu che poi questa specie di blu barra verde successivamente ho messo le super duo che volevo assolutamente provarle color crystal a b alle super duo gli ho messo dei cipollottini e poi ai cipollotti gli ho fatto sempre questi questi petalini sopra e in mezzo gli ho messo delle delle cuocce della miuki piccolina se non ricordo la misura è bellissimo nel senso che comunque a me piace e richiama tanto l'estate il mare quindi adesso io non sono brava a dare dei nomi alle mie creazioni però magari mare in francese mer non lo so vediamo se avete dei consigli dimettimelo comunque questo ciondolo qua e anche qui se è sempre il solito problema non so mai con cosa abbinarlo perché una catena semplice non mi piaceva una della tipo coda di topo azzurra non l'avevo in casa un nastrino normale in organza bianco mi piaceva ma non mi finiva proprio di piacere e niente quindi vabbè ho deciso di utilizzare queste gocce e questi cipollotti che mi aveva regalato la mia amica Ilaria nel pacchetto che appunto ho ricevuto e che vedrete la review prima di questo video sicuramente e ci stanno troppo bene quindi ho intervallato quello che lei mi ha regalato con della catena che avevo preso a Roma a maggio quando ci sono stata ho rimesso altri cipollotti altre gocce e niente insomma io come al solito non ho neanche un collo qua a casa mia ce l'ho dai miei e quindi non riesco a mostrarvi per intero la collana però diciamo che così non mi dispiace ecco niente quindi ho risolto il problema di cosa di dove metterlo con questa soluzione qua grazie alla mia amica Ili che inconsapevolmente mi ha dato un'idea e niente insomma quindi questa è la mia prima realizzazione che vi volevo mostrare poi secondo allora l'ho già postato entrambi i due anelli su sul gru su gruppi tipo perline dal mondo artiste peperite e mani creative sì anche quello molto probabilmente ho giocato un po' con le super duo che mi sono arrivate vi ho mostrato qualche video fa che ho acquistato da Sabrina Cristalli e mi è uscito fuori questo allora è un quadrato è anche carino per carità io poi ho utilizzato una base perché non c'ho voglia ultimamente di fare le fascette è carino per carità è un po' troppo bombato perché io ho utilizzato delle mezze sferette di legno che avevo a casa e secondo me con delle mezze sferette un po' più piccole dentro insomma magari viene bene è venuta una forma di quadrato proprio involontaria anche qui è la mia testolina che ho girato fatto provato insomma proprio ho voluto giocare con le super duo che ho acquistato e mi è uscito fuori questo anello sicuramente molto impegnativo aspettate che qua io con una mano sola e niente quindi questa qua è la mia proposta ho postato dicendo che non mi convinceva ma mi avete detto tutto che è carino e quindi ci credo poi altro anello ho realizzato grazie alla mia amica Ili cabochon che mi ha regalato lei che vi avevo mostrato e visto che è tutto colorato ho voluto questo cabochon realizzarlo con i colori che era fatto con cui era fatto il cabochon sempre con una base poi incollata e niente prima l'ho fatto con un incastro natura nera ho fatto questo giro di delica rosse e poi sopra ho incastonato con questi swarovski con dei picò per chiudere tutto con un giro di swarovski di crystal AB e un verdino insomma anche questo è particolare ragazze perché non è proprio comune io spero che piaccia e niente io ultimamente sono in vena di creare cose strane un po' mi preoccupo perché vabbè poi vi mostro un bracciale che ho realizzato per mia mamma ed è lo stesso bracciale che ho regalato a Ilaria ovviamente in un altro colore questo è il colore che ho creato per mia mamma sui toni della rosso ma mi l'hanno venduto come rosso sicuramente tende anche a un salmone ecco con sopra dei semplici swarovski da 4 mm crystal allora è una lavorazione molto ma molto lunga poi io facendolo di sera con la stanchezza del lavoro ci impiego veramente giorni per realizzarlo comunque prese queste basi ho prima fatto come vedete sotto tutto il giro con questa fantasia quella che inquadrate qui qui sotto e aspettate che c'è una notifica ok se no non riesco a vedere cosa mi sto mostrando e e niente quindi finito la base sotto che è realizzato appunto con questo motivo qui mi sono messa a ricamare gli swarovski da 4 mm per mia mamma li ho fatti tutti crystal AB per Ilaria li ho alternato due colori in verità si potrebbe fare anche con sopra degli chaton con degli swarovski da 3 mm io ho usato quelli da 4 perché a me piace che comunque la bombatura che esce dal motivo ricamato sopra prevalga ecco ed è molto molto luminoso io conto di farlo spero prima di Natale perché qua con tutte le cose che devo fare smaltire tot materiale vabbè lo terrò per ultimo voglio crearne uno per me nei miei colori preferiti quindi per metterlo spesso lo devo fare con il bianco e con il nero con l'argento boh non lo so poi magari vi stupisco ve lo mostro chissà di che colore rosa vabbè anche questo mi piace come colore niente ragazze questo è quel poco che volevo mostrarvi che ho realizzato giusto per tenervi informate poi partirò non so se in questa settimana riesco a fare qualcos'altro e a mostrarvelo perché ripeto la connessione è veramente lenta e niente insomma io spero che vi piace per qualsiasi informazione o qualcosa sono qui ho promesso dei tutorial e li preparerò e li realizzerò e li pubblicherò il prima possibile penso dopo il mare e niente per ora vi mando un bacio e ciao 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 e chi va al mare buone ferie ciao ciao